Migliaia di persone hanno manifestato in tutto il mondo per chiedere la fine dei raid israeliani e in solidarietà alla popolazione di Gaza. A Sana'a, capitale dello Yemen, qualcuno ha espresso disappunto anche nei confronti dei paesi arabi. Siamo scese in strada per mostrare solidarietà ai nostri fratelli a Gaza, che sono isolati e subiscono abusi dai sionisti in collaborazione con i nostri fratelli arabi. Il nostro messaggio ai regimi arabi, specialmente all'Egitto, è quello di aprire il passaggio con Gaza. Così come in Iran e in Australia, anche in Sudafrica sono stati organizzati dei cortei, a Città del Capo i manifestanti anti-israeliani erano Migliaia. Iniziative simili sono state organizzate nel Regno Unito e in Francia. A Parigi, con bandiere palestinesi e slogan di protesta, un coro di persone ha chiesto una posizione più ferma da parte dei governi occidentali contro Israele.